Il motivo interpretato dai Fraternity Brothers degli Stati Uniti è dal nostro Bruno Filippini. Bruno Filippini fa parte dei giovanissimi debuttanti di Sanremo, a cui è giunto dalla rassegna di Castro Caro. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un celebre coro religioso di Roma. Dirige Bruno Filippini il maestro Biffin. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un campo nuovo. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un campo nuovo. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un campo nuovo. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un campo nuovo. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un campo nuovo. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte del campogeldimento. Grazie a tutti.